ciao a tutti e come sempre ben ritrovati per un nuovo astrocaffè da passare insieme questa mattina parliamo di uno dei veicoli spaziali più iconici e amati di sempre lo space shuttle chi di voi è diversamente giovane forse si ricorda ancora di averli visti in tv quando partivano perché l'ultimo è stato lanciato nel 2011 quindi chi magari è troppo piccolo beh vi siete persi un bel veicolo erano veramente veramente qualcosa di eccezionale da vedere erano i veicoli più potenti che potevamo lanciare potevano portare nello spazio fino a 7 persone più di 23 tonnellate e sono stati la colonna vertebrale dei lanci spaziali in generale hanno permesso di costruire la stazione spaziale hanno permesso di lanciare intere sonde spaziali con attaccato un mini razzo con cui lanciarli poi nello spazio per cui sono state veramente di tantissimo aiuto e sono anche diventate in qualche modo iconiche per un'intera generazione appena pensano a molti di quelli che sono vissuti tra i anni 80 e 90 se pensano a veicoli spaziali viene in mente lo space shuttle sono stati poi cancellati perché però cioè se erano così di grande successo se funzionavano così bene come mai siamo arrivati alla fine di questo programma i problemi sono molteplici ma di base bisogna vedere come era stato idealizzato inizialmente per cosa era stato costruito e per questo dobbiamo fare un viaggio negli anni 70 il voli umani all'epoca venivano fatti ancora con il programma apollo infatti il programma space shuttle è il quarto programma di voli spaziali da parte della nasa dopo le missioni mercuri le prime gemini che avevano due astronauti e poi le apollo che sono andate verso prima verso la luna e poi sono state utilizzate anche per i lanci in orbita terrestre quando c'erano i primi esperimenti collaboratori che erano i skylab a quel punto tagliati i finanziamenti per tornare verso la luna e costruire il saturn 5 la nasa ricevete l'ordine da parte del congresso americano di costruire un veicolo che potesse essere un camion per lo spazio quindi qualcosa di molto veloce riutilizzabile che poteva andare su e giù continuamente per qualcosa come 40 50 lanci all'anno quindi per questo fu pensato appunto come camion spaziale aveva un grande una grande baia dove potevano metterci un po di tutto e poteva permettere di fare anche dal laboratorio se veniva pressurizzata quindi potevi stare all'interno e utilizzare le cose gli esperimenti che ti portavi dietro il problema fu che il costo diventò molto più alto di quanto chiunque avrebbe previsto dal veloce ricambio quindi lo shot doveva scendere ed essere rifornito riempito di nuove cose e posizionato su un altro booster solido gigantesco che quella parte arancione che vedete al centro con i due laterali solidi da questo è diventato una roba impressionante per cui una volta sceso doveva ricambiare tutti i vari tile che erano quei pezzi neri che erano sul fondo che erano lo scudo termico e dovevano essere molto sicuri che non non si rompevano mai lo shuttle era posizionato appunto sul grande razzo che vedevate dietro e quelli erano molto molto difficili da costruire specialmente la parte centrale c'è stato un programma di per tentare di recuperare alcuni pezzi come i booster due laterali che quindi se vi ricordate la space x che li recupera dallo spazio facendoli scendere di nuovo indietro nel caso dei shuttle per un po' era stato tentato recupero con parecadute che doveva farli scendere nel nell'oceano e poi delle barche li trascinavano a mollo però si sciupavano troppo per essere riutilizzati con affidabilità il problema ulteriore era il pericolo per gli astronauti non c'era una via di fuga vera nel caso di problemi per cui abbiamo avuto due interi equipaggi morti 14 persone 7 astronauti entrambe le volte hanno perso la vita per problemi legati alla sicurezza dei shuttle e non c'era una via di fuga nel caso del space shuttle challenger l'abbiamo visto esplodere e nel caso di columbia durante il rientro quindi in entrambi i casi è stata una tragedia che ha segnato molto e profondo la non solo l'idea di viaggio nello spazio ma la sicurezza macinato molto su l'idea di sicurezza da parte dello dei astronauti stessi e della nasa in questi veicoli alla fine furono cancellati sia per il rischio per gli astronauti sia per quanto per per in realtà la prospettiva di un nuovo veicolo per cui all'inizio degli anni 2000 la prima amministrazione bush aveva promesso non solo la fine dei space shuttle ma la sostituzione con un nuovo programma che era quello chiamato constellation che doveva riportare astronauti a camminare sulla luna lo space shuttle poi non poteva rientrare a velocità troppo alte da orbite troppo lontane per cui dalla bassa orbita terrestre dove di solito operavano più in là non potevano avventurarsi perché se rientravano per esempio dopo viaggi lunari a quella velocità sarebbero rimasti in pezzi quindi per andare insieme più in là dell'orbita terrestre dovevamo reinventarci i veicoli nuovi gli space shuttle hanno volato 135 volte nell'arco della loro vita lavoravano circa 5.000 persone in oltre 600 strutture sparse per tutti gli stati uniti che lavoravano e preparavano ogni singolo pezzo durante tutta questa la loro vita hanno insegnato a un'intera generazione di ingegneri a lavorare in campo aero spaziale hanno permesso di avere ora persone che stanno costruendo le cose per il futuro le nuove navicelle per cui non è stato un programma inutile se vogliamo ci sono state continuamente polemiche per cui per esempio trovate alcuni che avrebbero preferito continuare con i razzi saturn 5 e l'idea era costruire ancora saturn 5 andare con quelli continuare ad andare verso la luna e poi verso marte lo space shuttle di base le idee che avevano era molto avanti per tanti aspetti per cui era molto nello spirito della riutilizzabilità quello stesso spirito che ora sta spingendo per esempio la space x a costruire cose per abbassare il costo purtroppo non è andato come previsto all'epoca dei ultimi lanci che vedete alle mie spalle la sts 135 sts stava per space transportation system costavano circa 450 milioni che in realtà se considerate il costo totale dall'inizio dello sviluppo fino alla fine erano per ogni singolo lancio più di un miliardo e mezzo di dollari era tantissimo era molto spesso costava molto di più il lancio dello space shuttle della missione stessa che lanciavano potete ancora vederli potete andare fisicamente a toccarli a parte challenger e columbia che sono rimasti in pezzi abbiamo ancora endeavor atlantis e discovery più enterprise che fu il primo che semplicemente scese e portava il nome dell'equipaggio della vera enterprise appunto la novicella di star trek e potete andare nei musei americani a vederli per adesso è tutto ditemi voi sotto se avete mai visto un lancio space shuttle io vi abbraccio continuate a essere meravigliosi ci vediamo presto con un nuovastro caffè durante tutto il programma shuttle nel momento in cui hanno lanciato più usato in assoluto sono arrivati a 9 in un anno voi invece a quanti commenti siete arrivati sotto un video che questo era un incoraggiamento per commentare sotto e lanciate più commenti dei shuttle ecco questo è qua anche perché non vengono più lanciati quindi